Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 20 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo acquario. Da qualsiasi parte, comunque litigi. Da qualsiasi parte vi voltiate oggi incontrate solo litigi, la luna retina bisticcia con Marte, ricordandovi che studio e lavoro in contemporanea non fanno per voi, troppo impegno, troppa dedizione per un fan della socialità e del viaggio ritrovarsi privi del tempo libero è come un ergastolo a Sing Sing o a Guantanamo. Stesso discorso per il vostro astro guida oranno in quadratura, amico del sole in vergine che a voi ha ben poco da raccontare, se non storie di bollette, di rate, di mutui, meglio i coccodrilli e i serpenti assonagli per quanto vi riguarda. L'unico amico a prendersi cura di voi giove in gemelli, sarà lui infatti a sollevarvi sul suo tappeto volante portandovi lontano, su qualche isola d'Oriente profumata di spezie o in qualche fiordo del nord verdeggiante di pini, al di fuori dalla bieca quotidianità. Volendo, però, rimedio a portata di mano per combattere l'emicrania, l'insonnia o il reflusso, compagni fissi da qualche giorno, ce ne sono, contemplare la bellezza, stare in buona compagnia, raccontare, cantare. Notizie piacevoli in arrivo o arrivate da poco Notizie positive e favorevoli, qualcosa che si annuncia Conquiste, attrazione, un uomo non più giovane potrebbe fare da tramite per nuove conoscenze. Un uomo maturo, separato, divorziato, che ha reciso da poco un rapporto potrebbe improvvisamente farsi presente nella vostra vita. Se avete intenzione di chiedere un chiarimento che ritenete necessario, fatelo moderatamente senza insistere più di tanto. Il tempo gioca a vostro favore quindi nessuna fretta. Non potresti avere una giornata meno nervosa, avrai mille piccoli contrattempi e arriverei a tarda sera tirando un sospiro di sollievo per la giornata finita. Oggi non fate frugare tra i vostri pensieri e le vostre cose le persone che vi circondano e che potrebbero essere invadenti. Non concedete loro di interferire con i vostri pensieri. Non potete pretendere di sapere tutto del vostro partner. Del resto anche voi celate qualche segreto di troppo. Fate pulizia nella vostra vita a partire da subito, mettete da parte rancore, odio e gelosia e fate una scelta nelle amicizie. Favoriti coloro che stanno per iniziare, hanno iniziato, o intendano frequentare, un corso di formazione. La luna in aspetto favorevole renderà fruttuoso il tutto. Rifiutate qualche approccio poco elegante che avete ricevuto recentemente sui social, fate in modo da recuperare una parte della vostra vita reale. Avete solo una vita da vivere, fatelo fino in fondo. Una situazione incresciosa potrebbe degenerare e farvi fare una figuraccia. Sgombrate il campo da ogni equivoco proclamando a tutti la vostra verità ma soprattutto dimostrandola. Le straordinarie capacità che avete di riprendervi anche dai colpi più duri, oggi vi saranno molto di aiuto. Occorre tutta la vostra attenzione e ogni sforzo utile per cogliere un risultato che vi sta a cuore. Vi favoriscono oggi la luna nel segno amico della riete e venere in bilancia, aumentando il vostro ottimismo e la volontà di credere in voi stessi in ogni settore della vostra vita, specie se siete nati nella prima e terza decade acquariana. A contrastarvi resta Urano, specie per la terza decade, che non vi offre una completa ducidità di giudizio nei rapporti interpersonali e non vi fa, a volte, comprendere pienamente il vostro prossimo. E così aspetti planetari contrastanti si dipingono sul vostro cielo in questa giornata di metà di settembre. Venerdì giorno di Giove, l'astro più potente e generoso del sistema solare che per tutto l'anno vi beneficia con un trigono. Oggi poi godete anche del supporto lunare, con la bianca signora sportiva e propositiva in ariete, segno di fuoco buon amico del vostro. Qualche contrarietà sul fronte lavorativo, effetto di Marte scalpitante in sesta casa, sostenuto dal vostro astro guida Urano che ormai da anni vi ha voltato le spalle elettrizzandovi con una quadratura. In sintesi, bene i sentimenti, tranquille le finanze, giuditono solo il benessere che reclama un aiutino urgente. Amore ed Eros. Papa e ciccia col partner, i figli, i parenti, gli amici. Il vostro mondo affettivo non presenta sbavature e non contempla soltanto i presenti, anche gli assenti che vivono lontano e hanno già passato il ponte dell'arcobaleno sul piano energetico sono comunque presenti nella mente, nel cuore, nei ricordi e formano attorno a voi un'aura protettiva. Iniziative interessanti e simpatiche portate avanti con persone care, ciascuno ci mette la propria idea e poiché l'unione fa la forza il risultato è quanto meno geniale. Lavoro e denaro. Veloci con azioni pronte, magari un po' troppo impulsive, ma voi siete fatti così, quando la mente va in ebollizione la mano ti è indietro. Non sopportate di perdere tempo e avete ragione, i pensieri girano nelle tere e quando ormai li avete formulati qualcun altro li potrebbe captare bagnandovi il naso. Discreto il gruzzoletto da investire e, se le cose andranno come immaginate, diventerà ancora più cospicuo. Meno appagante il lavoro in azienda con i soliti colleghi competitivi e il capo che, non visto, prende nota di tutto. Su di voi non avrà nulla da eccepire, veloci, efficienti e sempre disponibili a dare una mano, siete tra i soggetti migliori dallo staff. Benessere. Sulla vitalità nulla da ridire e lo stesso vale per la serenità di spirito, tuttavia qualche stato infiammatorio potrebbe cogliervi di sorpresa, specie se nonostante l'abbassamento delle temperature continuate a girare in maglietta quasi fosse ancora ferragosto. Su sveglia, tra tre giorni sarà autunno e bisogna indossare qualcosa di più consistente. Magari per il vin brulè della nonna è ancora presto, ma un tè allo zenzero addolcito con miele farà comunque al caso vostro. Denaro. Aspetti difficili di alcuni corpi celesti potrebbero non rendervi oculati degli acquisti. Muovetevi con passi felpati in campo economico. Se volete tentare la fortuna al gioco provate con un gratta e vinci. Per lei, nervose voi, nervoso anche il quattro zampe, che riflette e riecheggia i vostri umori. Provate a sorridere, sorriderà anche lui, con quel muso simpatico da star. Per lui, venerdì sera perfetto per un cinema, un teatro, uno spettacolo, che riechegge e rifletta le vostre emozioni. Ritrovarvi nella trama, nelle battute, nelle canzoni, vi aiuterà a non sentirvi soli, diversi, ma persone che sentono con il cuore di tutti, gli stessi sogni, gli stessi desideri, la stessa paura, la stessa rabbia, lo stesso amore. Colore delle emozioni, porpora. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 5, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.